ciao vi saluto ciao amico mio ciao bebba bene grazie ragazzi bebba 00 ciao erobaldo e robardo trattino basso art ci terrei sapesse se qualcuno gli può regalare la sub perché sto per fare chat solo sub e vi saluto ora vi spiego ciao mimmo buonasera vi dico tutto vi dico tutto non sono stato molto bene ieri prego non sono stato molto bene ieri e ora vi spiego tutto ci saranno molte cose tante novità ci sono molte cose importanti che vi devo dire allora fortunatamente nulla di irreparabile nulla di grave ma sono stato malissimo infatti ora ho mangiato poco e niente proprio per stare attentissima e fulgitissima a proposito mi devo prendere la cosa tra poco faccio la sub grazie giovanni va benissimo grazie non ti preoccupare bebba non ti preoccupare ma perché poi mi dispiace che facciamo la chat solo sub e molte persone a cui voglio bene e tengo non non hanno la possibilità di scrivere allora partiamo fa un paio di minuti perché ci sono delle cose molto importanti che vi devo dire aspettiamo che arrivano tutti quanti c'è un sub call da fare tutti insieme c'è un nuovo telefono che ho preso un secondo telefono grazie giovanni grazie grazie per la sub grazie c'è c'è un sub call che faremo tutti insieme perché voi mi avete richiesto questa cosa di fare dei sub call per andare esempio a milano per andare esempio a qualche parte eccetera eccetera ci sono tante cose che voglio dire ho una richiesta per te dimmi tutto giovanni è tutto pronto è robato top disegnatore top disegnatore grazie vi saluto grazie 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 mille grazie sei sempre un signore grazie mille grazie di vero cuore mi farebbe molto piacere ragazzi chi ha più possibilità chi è tra i top donatori chi può come vi saluto ad esempio e a milan e ed altri perché ci sono delle cose molto importanti che faremo e principalmente ovviamente upgrade per i solo sub capito fan art non ho capito comunque grazie vi saluto grazie davvero grazie puoi regalarla dirello per una sub che regalo mi fai un video messaggio ma giovanni se vuoi un video messaggio figurati io te lo faccio anche gratuitamente non c'è problema poi la sub ovviamente ci ciao herman ci aiuta a fare cose molto importanti a crescere sempre più quindi l'apprezzo l'apprezzerei e ti ringrazio ovviamente per la sub assolutamente e ci sono dei traguardi che stiamo per raggiungere ci sono delle cose molto importanti che stiamo per raggiungere ci sono tantissime cose che vi voglio dire so che ora ci sta la cempio ci stanno altre cose lo so che ci saranno molti meno spettatori rispetto ai 400 500 600 che facciamo in genere noi però a me non mi importa non mi importa di avere grandi numeri o altro capito non assolutamente per una sub allora per un sub che faccio adesso me lo fai subito un video messaggio e lo metto sul tuo telegram Giovanni va bene ti faccio un video a fine la finisco la live perché non posso farti il mio messaggio la finisco la live mi iscrivi su instagram o telegram e ti faccio il mio messaggio non c'è problema tranquillamente va bene grazie a tutti grazie Giovanni ci sono delle cose molto importanti capitan dice potete regalare una sub anche a me ragazzi io vi leggerei tutti ok vi leggerei tutti semplicemente no non posso chiedere a tutti quanti di regalare sub capito cioè davvero costa pochi euro la sub la possiamo permettercela ma al 90% chi è che ha un buon cellulare con una buona linea internet si può permettere una sub quindi non siamo sul via non siamo i pochi ok Rosario come si fa la sub se siete da cellulare andate sul mio profilo qui sulla destra sinistra nome sulla destra ci sta gift a sub potete regalare le sub se invece siete da cellulare e volete fare voi la sub entrate da browser da google e fate subscribe ok trovate proprio subscriber invece siete da pc trovate proprio subscriber da pc ok ora ci sono cose importanti che vi voglio dire grazie a tutti per le sub grazie a tutte le persone che mi supportano ragazzi è importante lo sapete perché io sto comprando tante cose ok random tu sei top donatore dall'altro lato vuoi che ti regalano una sub qua ma regala una recina subito ma come ti sei top donatore di là ma com'è ma dimostra un po' chi sei mannaggia comunque scherzi a parte studio nuova postazione viaggi insieme per Milano eventi eccetera eccetera tante cose raga quindi quindi è importante che comunque facciamo un sub con tutti quanti insieme perché tutti insieme tutti insieme mi dai un bacino senti ma va te lo do lo stesso il bacino se fai o non fai la sub va boh se la fai ti ringrazio comunque io con le mie sole forse insieme a voi che mi state dando la mano con le sub sto cercando di comprare tutte le cose possibili per diventare un top streamer e farvi divertire ok ho già preso un cellulare ho preso un altro cellulare che ora non ce l'ho con me perché ce l'ho a casa devo comprare un'altra scheda così possiamo fare discord insieme ok possiamo fare con due cellulari uno live e un altro su discord e facciamo discord insieme per i solo sub poi voglio prendere uno studio grazie Zorro grazie per la gift sub grazie vuoi diventare il prossimo top donator Zorro ti vedo carico con gifter a sub il mio inglese lo sapete è top comunque postazione pc sedia videocamera ciao Nin buonasera Mimmo Jodil ciao a tutti al momento ho un Asus portatile che possiamo fare una streaming ma non possiamo fare gameplay non possiamo fare nulla quindi ragazzi la cosa che possiamo fare tutti quanti insieme io metto tutti i soldi e tutte le forze che posso tranquillamente non vi chiedo niente a voi però se volete divertirvi con me faccio gameplay insieme a voi discord insieme a voi arena dove spazio tutti quanti insieme a voi ciao Milan casa stava facendo top su top sub su sub ci mancavi solo tu fra che sei tra i top donetro se non il primo se non sbaglio e ti stavo raccontando tanti format possiamo fare però ci dobbiamo dare tutti quanti una mano io non vi chiedo nulla lo sapete sono carico non vi chiedo nulla lo sapete sempre solo di vostra iniziativa però calcolate che se riusciamo a raggiungere dei risultati di sub importanti ok vi spiego cosa possiamo fare altrimenti li faccio da soli non è un problema però ci vuole più tempo se invece mi date una mano pure voi io vi porto uno studio una postazione fissa pc ok una postazione airman quanto più possiamo in questo mese più possiamo spingere con sub con donazioni sub io più posso fare ho già comprato un cellulare come vi ho detto un secondo cellulare per fare discord insieme e domani comprerò un'altra scheda così lo metto il cellulare e facciamo discord insieme sub goal purtroppo da cellulare non lo posso mettere quindi ce lo dobbiamo immaginare noi capito non posso metterlo fisicamente in live perché non so come si fa purtroppo con questa nuova piattaforma che amo e che amiamo capito però facciamolo noi lo facciamo noi capito lo facciamo noi ad esempio tu vi saluto tutti quanti ho una sub a testa ho chi può donare di più donare di più ciao buonasera e se arriva a un risultato che vogliamo ok e un attimo solo un attimo solo un attimo solo un attimo solo one un attimo solo two ecco 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 vi do io una mano un attimo allora rosario sto perdonando un'altra salve tu mi metti mi mandi un video saluto si Giovanni te l'ho detto non c'è problema a fine live scrivi su instagram ti faccio un video saluto non c'è problema figurati con piacere ciao buonasera a tutti buonasera a tutti ragazzi buonasera a tutti quindi come vi dicevo voglio fare le cose fatte bene voglio fare le cose alla grande però ho bisogno che tutti quanti insieme facciamo questo dopo vi rispondo ok ho messo anche gli eventi allora possiamo fare eventi insieme se a napoli non ci sono costi di treno e hotel tutta la sera insieme compleanni festa diciottesimo lauree qualsiasi cosa 300 euro totali basta a fine tutta la sera insieme dalle 9 fino all'una due di notte tre di notte quattro cinque sei sette ore insieme nessun altro costo storie sponsor anche le ho messe storie sponsor da 150 con tag e c'è una visibilità altissima lo sapete ho messo tutto tutto a disposizione per tutti solo sul campo solo sul campo streamer influencer non faccio altro non faccio percorsi non mi interessa per divertirci insieme e per guadagnare così posso investire nella postazione perché mi sembra una postazione sedia pc per fare gameplay insieme format pazzeschi insieme perché ho delle idee spaventose possiamo fare arena possiamo fare gameplay horror possiamo fare delle cose assurde delle cose fenomenali ok sta tutto da noi tutto insieme ma che cazzo è ok Giovanni grazie grazie per la sab scrivimi su instagram tutte le persone che vogliono scrivermi su instagram come Giovanni che vogliono un video saluto un audio qualsiasi cosa mi potete scrivere non c'è problema grazie di cuore aerobaldo tattino basso art dice dove è la sua sab top donatori gli potete regalare una sab a aerobaldo il nostro designer di fiducia gentilmente è a corto di cash giustamente non so ma forse li avrà spesi tutti a me hot scherzo piccolo gag piccolo show piccolo show confermo confermo come confermo come confermo non ho parole comunque capito grandi progetti grandissimi progetti bravo bravo prendo distanza si scherza ovviamente mi dissocio prendo le distanze si scherza ciao buonasera a tutti ragazzi gentilmente tutte le persone che io sto bannando venite quelli che io banno che scrivono quelle cose bannatele istantaneamente bannatele istantaneamente ripeto io non sono come Rubino che non c'è niente di male io non vi chiedo Giovanni scrivi su Instagram ricordamelo che io ti faccio un video saluto e tu lo puoi mettere dove vuoi non c'è problema capito però scrivi su Instagram ok io non ce l'ho con Rubino ripeto Rubino che si occupa questo al 100% di lavoro e ha una tipologia di modo d'approccio che chiede le sub per fare determinate cose io non assolutamente non condivido questo genere ok non condivido questa cosa io non vi chiedo nulla ok Milan ti voglio bene sai quanto ti voglio bene fra se mi vuoi bene se mi vuoi bene se mi vuoi bene Giovanni mi ricordo però qualsiasi cosa per il tuo nome e cognome è tutto dopo guardo IG scrivi su Instagram o me non ricordo a Giody e ti faccio un video saluto che te lo invio su Instagram e tu lo puoi lo puoi mettere dove vuoi comunque come dicevo nulla nulla non ballo nel cascione raga Milan se vuoi donare le 4 sub io ti ringrazio ti voglio bene e le mettiamo insieme a tutte le altre persone che stanno donando postazione no Herman postazione che possiamo fare gameplay horror insieme chi si ricorda ai vecchi tempi voglio ma prendiamo una postazione come si deve studio pc metto tutti i soldi che ho tutti i soldi che ho no Herman non allora spiego ok vi faccio un'idea allora ho già preso il cellulare secondo cellulare domani compro l'altra scheda ho già preso un pc portatile che avete visto ora occorre un pc fisso gaming quanto può costare medio buono che ci regge tutti i giochi che facciamo lo sapete più voi che io quanto ne faccio quanto può costare quanto può costare no no pure seminuovo pure seminuovo 1000 euro seminuovo 1000 euro 1000 euro un buon pc che ci regge tutti i giochi 800 euro un buon pc gaming che ci regge tutti i giochi quanto può costare ok allora gaming pc 800 euro sedia gaming ma ci vuoi dimarare già pure la sede della casa ciao calypso uno studio con wifi 200-300 euro al mese e via fotocamera buona 100 euro di fotocamera 100 euro di microfono buono 1400-1500 euro di spese più o meno stiamo 1700 euro di spese vai fighiamo un pc di 1000 euro 1200 euro un pc seminuovo si la chat sceglie sempre tutto insieme a me capito questo è il traguardo da raggiungere insieme io non vi chiedo nulla non vi sto chiedendo nulla non vi chiederei mai nulla io metto i soldi che ho più le forze che ho calcolate che sto facendo nuova attività nuovo furgone ho già comprato c'è un portatile asus ho già comprato un altro cellulare domani compro un'altra scheda adesso sto spendendo tutto quello che riesco a guadagnare per per fare per fare questa cosa ok numero di sub da raggiungere 400 400 400 sub 400 sub che cazzo ne so 400 sub la butto lì per essere a grasso normale non lo so a quanto siamo finora devo controllare però già ce n'abbiamo un bel po capito io parlo in totale attenzione totale 400 sub più quelle che ho io più i soldi che ho io totale capito quindi qualche centinaio di 300 non lo so non lo so non lo so quando possono volerci allora se non vi se io se io non riesco allora allora io faccio dei conti ok allora pc 1000 euro avete detto ok sedia gaming 150 euro 1150 ottima fotocamera 100 euro ma le sto facendo a grasso costano pure molto di più 1250 microfono buono 1350 guardate pc dite pure 1500 1350 poi allora 1000 studio 1250 1350 sedia 1450 fotocamera 1550 microfono 1600 un buon pc con tutta postazione tutto a posto c'è capito ma un pc aspetta un pc no che facciamo con il pc 500 euro milan noi dobbiamo reggere i giochi dobbiamo fare gameplay horror deve andare fluido io ce l'avevo il pc da 4 500 euro si bloccava tutto si bannava tutto capito questa è fare step by step sì assolutamente capito io vi sto dicendo una cosa da raggiungere insieme poi la posso raggiungere al 90% io capito non vi sto cedendo soldi al 90% io lavoro e la raggiungo io non c'è problema poi tutte le persone che mi seguono chi si vuole divertire con me chi vuole che io faccia prima questa cosa può fare una sub o può giftare la sub capito calcolate che più o meno penso ci vorranno un 354 400 sub qui penso più o meno per poter fare tutto ciò capito a a 1000 euro solo il pc ma io schermo dobbiamo prendere lo schermo lo schermo 200 euro penso quindi stiamo sulle 1800 stiamo perché poi compriamo solo 1000 euro compriamo solo il pc fisso capito 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 no nessuna raccolta io non vi chiedo nulla non vi dico nulla io vi ho detto sto facendo tutte le cose che posso fare chiunque vuole insieme a me divertirsi e far che insieme raggiungiamo tutto questo lo possiamo fare in un mese siamo in oltre 400 una sub a testa sono 400 euro pochi euro scusate non 400 molti di più una sub a testa sono 400 sub e domani io prendo tutto e si fa lo streamer al top al 100% capito sta a voi poi non lo potete fare chi non lo vuole fare non c'è problema io non vi sto dicendo nulla no jody vengono le distanze lo faccio io piano piano chi può donare chi può fare la sub come già fate come già state facendo insieme a me facciamo tutto questo però mi dovete dare tempo perché devo comprare un altro furgone devo lavorare ho questo furgone le assicurazioni assicurazione qua assicurazione qua 1500 euro di assicurazione sto avviando questa nuova attività devo trovare l'ufficio ho comprato il cellulare nuovo secondo cellulare che non è nuovissimo non l'ho pagato tanto però comunque buon cellulare per fare per fare la la discord insieme pc portatile comprato io non vi chiedo nulla ok hanno pc 800 euro devo vedere devo vedere questo qua devo vedere devo vedere sì ma infatti compriamo un pc usato per risparmiare assolutamente assolutamente compriamo un pc ma infatti io sto dicendo 1000 euro un buon pc usato gaming compriamo fisso fisso capito dai rosario quando arrivo lo stupendo ehi herman herman ma tu sei il top imprenditore fra ma ti mostra un po' chi sei ma forse non ti conoscono bene tutti quanti ma vedi un po' chi è dite un po' chi è herman giovanni no no mi dissocio prendo le distanze potete fare la sab no io allora io non convinco nessuno io non convinco nessuno non chiedo niente a nessuno capito io non chiedo niente a nessuno come dicevo prima non sono come rubino che anche se fa questo come lavora al 100% lui si apre proprio e chiede proprio le sab io non sono così ciao reddi io non sono così milan possiamo fare sempre la chat sceglie tutto mi fate un traguardo mi fate delle cose io accetto meno però fatemi fare fatemi fare cose che posso fare capito no cose dice carasù carasaur regalatemi la sab è urgente top donatori la volete regalare questa sab a carasau che dice se non lo ricordo male è una bellissima persona parla da sab uno studio non penso milan guarda se vuoi il balletto te lo faccio qua in mezzo in mezzo a sta piazzetta qua con piacere in mezzo alla rotonda mi fai andare qualche cosa guarda ah non si possono fare sabba persone specifiche avete raggiù guardi mi dispiace non si possono fare sabba persone specifiche quindi dovete farla voi se vi fa piacere se volete senza obbliche vi ricordate il mio pc che si buggava quindi se dobbiamo farla la cosa va giù volete l'Iccardo Rosario l'Iccardo Rosario top streamer maratone h24 vi metto dormiamo insieme ridiamo insieme scherziamo insieme no tutta la vita perché devo pure lavorare vi metto le telecamere dappertutto che mi potete inquadrare vi metto gli auto che potete divertirvi ridere scherzare stile casa grande fratello insomma ho delle idee straordinarie però ci dobbiamo dare tutti quanti una mano se volete far questo ciao Elmo se volete far questo ci dobbiamo dare tutti quanti una mano altrimenti da solo dovete passendare un po' che faccio tutto io ma un gischianto alla quarta se è un correre globo non lo sapevo non lo sapevo c'è una cosa proprio straordinaria ci ho in mente proprio una cosa straordinaria che potete fare i alert suoni ma io c'ho in mente una cosa qui straordinaria che ci divertiamo un casino però dovete pasentare famiglia dance sotto i portici vai te la faccio lì sotto sotto i portici qua devo trovare la canzone e tutto ma non le so le barzellette non Joe non le so le barzellette non le so se accetti per quattro sub te le faccio la vedi sotto i porticati la sono commosso hai detto bene dai voglio dai che così andiamo presto a fare la postazione e facciamo le cose straordinarie vai no senza scarpe no no scherzate senza scarpe no eh c'è un contenitore piccolino verde mi metto la vicino non è che mi posso mettere nel nel contenitore ridiamo scherziamo non è che mi posso mettere in down niz nel contenitore milan vicino là tutte le volte vicino là ci mettiamo la canzone va bene non neanche per cento sabb mi metterei nel calcione ma Mimmo va a fare un camion proprio sai che cosa ma un camion ne fa che cosa marron non vogliono vicino al calcione del fogone che senso qua sto vicino al calcione qua qua così sto vicino al calcione più di questo salgo dentro a questo punto no perfetto che è che zona siamo no non tolgo la maglia al ballo per farmi togliere la maglia ci vogliono almeno 20 sub almeno almeno tutto guarda tutto guarda allora quindi mi fa la maglia che ho detto no ho sbagliato quindi troppo poco che la dice ciò sa no qua non ci abita nessuno io sono molto distante da qua no no qua non ci abita nessuno sono un settore lavorativo mi dissocio da cosa non salgo nel cascione non dormo nel cascione no no milan senza maglia è molto se vuoi senza maglia lo faccio nel furgone perché altrimenti fuori mi gelo e ovviamente mi arresto qualcuno nel furgone altrimenti resto solido no ho capito milan ho capito fra però mi fai pigliare un colpo qua fuori senza maglia fa freddo fa freddo veramente fa freddo voglio la ballata la ballata famiglia della famiglia del furgone altrimenti testiamo per 4 sub la famiglia dance normale così con la maglia 4 sub 4 vabbè normale standard vabbè non non menzionate altri streamer voglio altre persone non mi interessa è un cascione come non hai capito come è fatto questo cascione è un cascione no gli ho già fatta le pressioni giovanni ti voglio bene non spammare sempre questo messaggio ti voglio bene frate grazie prendo le distanze ti voglio bene l'hai spammato 15 volte non ci interessa di palle con tutto il rispetto che è una palla johnny accetto sono 20 sub 22 sub 20 sub 22 sub prego accetto puoi chiedermi qualsiasi cosa sulla germana il mio lavoro accetto fai qualche ricattata senza potremmo fare una bella no io ho paurissima ragazzi io faccio le ricardate naturali io condivido con il non faccio le ricardate naturali però mi dovete capire c'ho un sacco di cose che sto facendo c'ho tante cose che sto facendo oh non è arrivato nulla milan ti assicuro che non hai fatto nulla cioè io non ho visto nulla vedi bene controlla bene ah ora eccole eccole grazie frate ora sono arrivate un pochino in ritardino milan top donatore voglio sapere chi lo supera milan che è diventato storia sta diventando storia del canale riccardo rosario tino basso real oramai conoscono di più top donatori che me oh giovanni grazie per un'altra sapo giftata attendo milan cad sta una cad sta una fa concorrenza tra vi saluto giovanni e te giovanni ti voglio un mondo di bene frate però non mi spammare sempre con un messaggio 4 minuti se non dura allora per mettere la canzone io devo togliere la schermata dove vi leggo ok e lo so con gli alert lo so però al momento da cellulare non possiamo farlo quindi postazione perché sicuramente poi con la postazione possiamo fare ciao nin la milietro l'in di persenza con la postazione poi possiamo fare gli alert possiamo fare un sacco di cose quindi più persone donano più persone giftano più persone si sabbano e io prima posso fare cose straordinarie insieme a voi volete streamer che vi fanno divertire h24 ci pensa l'incardo rosario gameplay insieme arena disponibilità per tutti parola per tutti discord insieme maratone insieme dormire insieme facciamo di tutto credetemi che ci divertiamo però ci dobbiamo dare una mano tutti quanti oh alien grazie frate che voglio bene grazie 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 a tutti ora la faccio sto ringraziando tutti dicendo queste cose ora faccio il band non mi preoccupate ora faccio come patuito la famiglia dance arena che cos'è dove le persone possono entrare con cam e parlare con me ed altri ospiti e rispondere a qualsiasi domanda e fare argomenti particolari dare insomma una cosa molto bella ok una cosa davvero bella e allora non è capito come dicevo agli altri non posso mettere con le altre cose da cellulare non lo so fare ci vorrebbe una postazione capito non so come fare purtroppo non so come aiutare ovviamente lo farei però vi ringrazio perché ogni volta mi donate tanto vi sabate continuate a sabbarvi io vi ringrazio perché Kik ragazzi diventerà secondo me primo in assoluto io sono più che convinto che Kik farà un grande risultato farà davvero una grande storia e insieme faremo una grande storia e ci divertiremo porterò nuovi format in giro insieme faremo viaggi insieme un sacco di cose un sacco di cose ve lo prometto ok ora vi faccio la canzone un attimo un attimo un attimo non vi leggo sto mettendo la canzone non vi leggo un attimo un attimo un attimo un attimo ditemi se sentite so che sta facendo la pubblicità sentite oh Giovanni grazie 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 per un'altra sab giftata Giovanni grazie sentivate sentivate che stava andando oh no la pubblicità ora mettiamo la famiglia dance sentivate quello che stava succedendo giusto sì ok perfetto perfetto allora un attimo solo Giovanni grazie frate stai diventando tra i top donitor eh Giovanni siamo già a 5 sab Giovanni attualmente attualmente testa lo so che pure tu sei i top donitor ma attualmente Milan è primo su tutti voglio mi dispiace per superare Milan ce ne vuole e ce ne vuole eh signor allora qua ci sta mi metto da quest'altro lato perché qua ci sta il cascione voglio il lampione volevo scusare qua invece mi vedete meglio ok pronti sto vicino al cascione vedete qua sto ma io caffè insieme in amicizia perché io sono una persona amichevole lo prendo tranquillamente con tutti capito no come viene fatto passare su internet mettetelo questo pezzo signori Rosario Riccardo non è una persona odio notissima assolutamente capito alien all'app allora alien ascoltami vai da browser se sei da cellulare e fai subscriber capito e ti iscrivi e fai la sub capito invece sei dall'app la cellulare ti fa fare gift a sub capito oh Giovanni grazie 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 ancora Giovanni la sub la possiamo fare solo dal web al momento mi dicono capito invece potete gift tarla da cellulare se siete da cellulare andate da browser entrate da browser come se siete entrati da pc in pratica capito Giovanni si avvia l'ascesa come top donatore fate uno spam di cuori per Giovanni per favore e poi balliamo che ha donato già 6-7 sub insieme a insieme a insieme a non so che sta succedendo mi conoscono insieme a milan insieme a tanti altri di voi vedo ragazzi che si fanno foto da lontano con me forse mi avete trovato il posto bravo sei palle Giovanni sei palle uomo non ci credo dai comunque grazie frasi dai top donatore di questo canale quasi tra i top donatore sei sulla via del top donatore e ti ringrazio ok spingiamo di più che potete così io quanto prima posso fare posso fare il posso fare mi stanno facendo foto mi stanno facendo foto così quanto prima posso prendere studio postazione tutto il resto delle cose capite insieme io non vi chiedo nulla non sono come gli altri però insieme se possiamo raggiungere insieme con tutti i soldi che posso fare io lavorando io e tutto quello che potete fare voi con pochi euro costa la sab bevo una testa 440 domani prendo la prendo la postazione in pratica e ci divertiamo Giovanni grazie 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 Giovanni grazie famiglia per sempre benvenuti in famiglia ancora grazie 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 no ma a me mi vogliono bene tutti iniziamo a me vogliono bene tutti ragazzi allora questo messaggio deve passare io quando ho fatto quando ho fatto delle tra virgolette sparate è solo un modo mio di di gag modo di fare di ridere rionizzare scherzare ma io sono la pace io vado d'accordo con tutti a me mi vogliono bene tutti io voglio bene a tutti io rido e scherzo con tutti io non ho mai fatto del male a nessuno mai fare del male a nessuno no odio no odissimo no violenza mai mai io scherzo capito ma manca qualche sub per fare qualcosa no 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 mo la facciamo mo facciamo la la ballata ecco ci siamo grazie a tutti grazie a tutti per le salve quanto tempo quanto tempo la ballata la ballata la ballata la ballata Grazie a tutti. 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 Tutto quello che volete. Maratone. Dormire insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So che vi piace a tutti. So che vi divertite. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovete capito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no. Grazie a tutti. Io lo faccio. Grazie a tutti. No, no. Scrivimi su Instagram. Te lo ripeto. Io ti faccio. il video. te lo mando. e tu lo puoi postare. dove vuoi. non c'è? non c'è problema. io vi faccio. contento. lo portare qua. che la linea. non esiste. e al momento. al momento, no, 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 no. si, ma noi faccio. tanti format. la chat. sceglie tutto, alien. su su, 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 su. tutti i sub. non sono mai stato. grazie. ti, ti ringrazio ti ho chiesto gentilmente 15 volte di non dire più questa cosa della tua bio perché io non la leggo non la riesco a leggere e mi dissocio puoi evitare di dire questa cosa puoi evitare gentilmente di spammare questa cosa che te l'ho detto già 10 15 volte ti ringrazio per tutte le sabbe ti ringrazio per la comprensione mi iscrivi su instagram verifico che sei tu realmente e ti faccio pure il video va bene ultima volta grazie ti voglio bene già sei grande pure tu capito ti prego ultima volta non me lo fa ripetere ancora ti voglio bene ok io vendo le distanze nel caso ora signori abbiamo fatto un'oretta e passa di live figura di amico mio a disposizione ora volete fare la chat sceglie tutto insieme no no milano volete fare la chat sceglie tutto insieme ora se avessi discord con l'altro cellulare per questo mi devo subito organizzare con un'altra scheda vi faccio sapere potevamo fare discord insieme live purtroppo non ce l'ho discord come sull'altro cellulare e quindi se non la chat sceglie tutto non so che altro farvi fare mi ho raccontato tutto a e lo solo su milano mi ricercate che cos'è questo posto che dice giovanni che io prendo le distanze giovanni sei su un filo è secondo me sì 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 allora facciamo una cosa no l'abbiamo già provata sta cosa devo comprare obbligatoriamente un'altra scheda domani se riesco che mi organizzo compro un'altra scheda la metto nel cellulare facciamo discord insieme reaction video discord pure se la dobbiamo guardare così che mi mette il cellulare avanti no ma infatti non ci vedo nulla di male nulla di che assolutamente giovanni amico mio ti voglio tanto bene ti ringrazio per tutte le sub che mi hai donato però non ci conosciamo pare 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 che stai scherzando un po troppo con delle cose un po delicatine quindi mi stai mettendo un poco di dubbi io prendo le distanze io prendo le distanze milan giù io prendo le distanze mi dissocio gentilmente non menzionare più questi posti gentilmente non dire più questi posti gentilmente non dire altro di questo genere ok sofi la balla la balla direttamente io prendo le distanze va bene sia così ha deciso vuol dire che era rischioso per noi e via no no io prendo le distanze assolutamente non so dove sia né cosa sia no ma io io confido in voi voglio confido in voi io non lo so capito l'ho avvisato diverse volte presidente lei che può doni no 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 ah ok va bene non so che dire so che dire non mi dite queste cose vi prendo io prendo le distanze non gio il fatto sai che cos'è che è mezzanotte ma andiamo al vomero a fare capì andiamo al vomero a fare cosa non so che cos'è allora questa cosa la possiamo fare fine settimana andiamo ai baretti andiamo capito mamù di mercoledì sera a mezzanotte ma chi ci sta capii vi saluto è un buon format però dato che io vengo da una da un contesto particolare che sono cresciuto in un contesto bello ma terra terra io rispetto io rispetto tutto e tutti quindi non mi piace di dar fastidio in live mostrando tutti i posti di Napoli si ma non a dar fastidio alle persone in certi posti in certi contesti perchè devo fare le visual non mi fa piacere sta cosa capii? però se volete vi faccio visitare tuttora non c'è problema ma fa capito? esatto assolutamente comunque si 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 allora sono d'accordo sono a disposizione per far vivare questa cosa però di mercoledì a mezzanotte non c'è nessuno no beh beh invece no alle 11.45 la movida napoletana si sveglia proprio è perfetto come orario capite? però da ora andare eh lo so andare nei posti che arrivammo a mezzanotte e fin da mezza a gente se no va sta picciur ce l'hai capito? che facciamo? dove andiamo? non c'è niente capii? sabato o venerdì sera o sabato sera oltre al format che vi dico già che già facciamo andiamo pure da qualche parte bella in live qualche bel posto va bene? mo sapete che facciamo? andiamo tutti su discord parliamo un po' tutti i sub vip mod e donatori su discord io vi metto vip e chiacchieriamo e ci divertiamo fine a sera finché non dormo va bene? so che siamo in 430 ce ne siamo tantissimi ancora però è mezzanotte e non sappiamo che altro fare dato che la chat solo sab è terminata cioè la chat finisce tutto è terminata ci divertiamo un po' su discord tranquilli capito? volete aprire la chat per milan grazie? che dite? volete aprire la chat per favore? e beba di organizzare ciao Gianni va bene vi saluto per voi questo e l'altro bannate queste persone che scrivono queste cose bravissimi ringraziate milan vi saluto i top donator e tutti gli altri sub signori dai spammi di cuori io sono sab allora io sono sab e non mi ha fatto scherzo no perché non sei sab zorro ha giftato la sab per essere sab vai sei da cellulare vai nel browser entra nel browser da google in pratica e fai subscribe se invece vai da telefono e fai gift a sab regali una sab capito? tutte le persone che vogliono parlare con noi una sab che costa pochi euro questo è il discord l'ha messo Jodil e ce ne andiamo di là e ci divertiamo se siete da cellulare entrate da google e fate subscribe pochi euro no Jodil non scherzate neanche Joe tranquillo lo ti spiego capito? se volete entrare su discord e parlare con me e con noi in solo sub vip mod e donatori da browser entrate potete chiedermi qualsiasi domanda qualsiasi cosa entrate da browser su kick e fate subscriber sul mio canale no lo so figurati ve l'ho detto come si fa da cellulare è facile iscrivete e io vi aiuto va bene? signori grazie per essere qui sempre Jodil vi ha pinnato discord io prendo le distanze qualora non ci potesse fare ma penso di sì viva kick viva kick forza kick number one kick vi voglio bene grazie a tutti per farmi compagnia ogni sera vi ricordo sempre ogni sera 22.45 dal lunedì al venerdì 22.45 in live a divertirci raccontare storie in giro la chat sceglie tutto e ci divertiamo sabato mezzanotte e 45 per divertirci uscita ecc domenica festa salvo ovviamente qualche live extra poi ci sono live extra anche in settimana ecc ok di chi aveva fatto la sabba sugar ti voglio bene l'altro social non ci interessa più l'altra piattaforma non ci interessa più per noi per me solo kick viva kick forza kick bannate pulpo come si chiama grazie per le distanze domenica vi faccio la storia se vi faccio la storia c'è la live se non vi faccio la storia sono di festa domenica ok vi faccio la storia altrimenti se posso però è sempre sul tardi sempre dopo mezzanotte forza milan scedi sempre milan sempre forza a te vai frate però sempre forza napoli ok ci vediamo tutti quanti su discord vi voglio bene tutti i sabbio vip mod e donatori con me si dite si scherzi su telegram ovviamente anche vi saluto non ti apre il discord vi saluto scrivi su instagram o scrivi jody o qualsiasi altra cosa va bene grazie un bacio a tutti no 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 zoro io sono napoletano ora ora tutti ora su discord ciao vi voglio bene grazie viva kick